Tutta la musica dei Poo dal 1966 ad oggi, attraverso un'immersione totale nel loro archivio segreto. Per la prima volta in DVD, tutta la loro storia, attraverso concerti, videoclip, interviste, speciali, viaggi, backstage, rarità e tante, tantissime canzoni. Un'operazione unica, con immagini restaurate e audio rimasterizzato, per restituire tutte le emozioni di una storia senza fiato. I mitici concerti, che hanno radunato sulle piazze e nei teatri centinaia di migliaia di fan. Tutti presentati e commentati da Roby, Dodi, Red e Stefano, che per la prima volta diventano narratori di questa lunghissima avventura. Sono ragazzi del mondo con il cuore negli occhi che scintillano. I viaggi, la musica portata in giro per il mondo, i moltissimi progetti che alla musica hanno legato la solidarietà. E ancora, le più belle videoclip, le canzoni in altre lingue, gli speciali per la televisione, con un occhio sempre aperto sul dietro le quinte. E per finire, i grandi musical che hanno entusiasmato l'Italia intera. Una storia da non perdere, una storia unica, una storia in musica. E per finire, la musica portata in giro per la prima volta diventano. E per finire, la musica portata in giro per la prima volta diventano. E per finire, la musica portata in giro per la prima volta diventano. E per finire, la musica portata in giro per la prima volta diventano. E per finire, la musica portata in giro per la prima volta diventano.